È stato molto utile, devo dire che oltre ad aver visto come lavorano, ho trovato anche una grande cortesia da parte di tutti i lavoratori e i collaboratori qua. Devo dire che è stato interessante e da ripetere, è una cosa bella. La città di Grugliasco crede molto nel servizio mensa e molto nel servizio mensa biologico. Sono ormai una ventina d'anni che investiamo non solo denaro ma anche tempo perché le commissioni mensa, il comitato tecnico scientifico e tutto quello che noi mettiamo in campo abbia il risultato di dare ai nostri figli il cibo migliore che si possa dare. Spesso abbiamo la sensazione che non tutte le informazioni arrivano in maniera corretta alle famiglie e è per questo che chiediamo sempre a CAMST di dare la possibilità di visitare non solo la mensa durante i pasti ma anche di permettere di vedere la cucina, permettere di vedere come si cucina. Oggi si è data la possibilità ai genitori di mettere veramente le mani in pasta e devo dire che la risposta ci è sembrata positiva. Le giornate come queste sono per i genitori e per noi un vero veicolo di comunicazione e di possibilità di conoscerci e di valorizzare a pieno quello che è il servizio di ristorazione in questa città. Raccontare soltanto che cosa sono le derrate biologiche oppure comunicare ai bambini con l'educazione alimentare che cosa stanno mangiando non è mai sufficiente. Oggi i genitori hanno messo le mani in pasta, hanno cucinato loro, hanno giocato con le nostre attrezzature e poi, la cosa fantastica, hanno consumato le cose che hanno cucinato con tantissimo gusto e soddisfazione. Ho visto delle facce contratte a inizio giornata, devo dire che vanno via tutti con il sorriso.